Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede, dottore, ma l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola può fare qualcosa per il mio udito, le mie orecchie, perché sento poco da un po' di tempo? E la risposta naturalmente è stata sì, sì, ci sono tanti casi ragazzi, ma a parte la mia associazione Ipnosi Associati di Los Angeles Baby Reels, ma puoi andare anche su Lancet Live e vedere tanti casi di ipnosi e udito, aiutati da questa grande e potentissima tecnica che è l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola. L'ipnosi di CS vera e professionale si differenzia da tutto ciò che trovi in giro per il fatto che non richiede la tua volontà, non ti ruba tempo, devi soltanto seguire le istruzioni molto facili alla prova di un nonno, alla prova di un pigro, alla prova di un idiota e meravigliarti del potere del tuo subcosciente, della tua mente profonda, del tuo genio e della lampada di Aladino. Per cui il subconscio ragazzi, il pilota automatico, questo grande computer controlla tutti e cinque i sensi, anche il sesto senso, il terzo occhio, chiamalo come vuoi, se sai come fare per guidarlo, educarlo e quindi realizzare tutti i due desideri, risolvere tutti i due problemi e soddisfare tutte le tue esigenze. Lo so che ti può sembrare impossibile, assurdo, incredibile, però se rifletti anche le favole di un tempo, parlavano sempre del subcosciente, come il genio della lampada di Aladino, oppure tante tante altre favole, ma anche i supereroi parlano sempre tra il bene e il male, il yin e lo yang, la coscienza e la subcoscienza. Adesso sto andando oltre, però sappi che il tuo dito, i tuoi occhi, la tua bocca, la tua pelle, i tuoi organi, le tue ghiandoli dipendono dalla tua sala comandi, dal tuo subconscio, dall'88% della tua mente. E non esiste nessuna, nessuna, ripeto, causa esterna, se non quella che è qua dentro. Tutto ciò che ci gira attorno non è altro che un catalizzatore, un qualcosa che fa aumentare la causa, gli effetti, però la causa sta nella nostra mente, profonda e potente. Anche con un solo audium IP3 DCS puoi risolvere il tuo problema di udito alle orecchie, oppure in qualsiasi parte del tuo corpo. Visita il sito www.ipnologiassociati.com della mia associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills che gestisce gli audium IP3 DCS e meravigliati del potere della tua mente, delle suggestioni DCS uniche al mondo. Poi se non vuoi scaricarti degli audium IP3 DCS e siccome il sottoscritto ha sospeso al momento tutte le sessioni online di Ipnologi DCS in tutto il mondo, a prescindere da dove risiedi, puoi anche andare da un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, in qualsiasi parte del mondo in cui ti siedi e inizi. L'importante è che questo professionista abbia già affrontato il caso come il tuo o abbia la famosa fede ipnotica perché non tutti fanno tutto. Devi sempre chiedere chi domanda comanda, ma non per nulla, per non spendere soldi inutilmente, perché l'ipnosi DCS che la professionale non ha nessun effetto secondario e collaterale, non manipola perché è un metodo DCS unico al mondo. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni. Mi visita per favore il mio sito internet www.impronagiosociali.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi, Autiprosi del Dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino e Feshare condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. Seguimi anche sugli altri social Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del Dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio e alla prossima ciò.